Constitution on Air, a cura dell'Associazione Poggeschi. Il 27 dicembre 1947 nasce la Costituzione della Repubblica Italiana, la legge fondamentale dello Stato. Un gruppo di 75 persone, tra uomini e donne, tutti con idee politiche estremamente diverse, furono chiamati a dare vita a quella che potremmo definire in un certo senso la macchina dello Stato, la Costituzione. Ebbene, iniziamo da oggi qui a Liberi Dentro un percorso in 12 puntate su alcuni articoli della Costituzione e salendo a bordo di quest'auto avremo modo di affiancarci anche alle Costituzioni di altri Paesi. Avevamo iniziato questo percorso all'interno del carcere della Dozza e continueremo qui in radio una volta alla settimana. Mi presento, sono Adriana, una studentessa di giurisprudenza. Vi invito a partire oggi con me con l'articolo 1. L'articolo recita. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Era il 1946 e tutto il popolo italiano venne chiamato a votare, una data storica in cui la maggior parte degli uomini e per la prima volta anche delle donne pensate scelse come forma di governo la Repubblica Democratica. D'ora in poi non avrebbero più governato dittatori o persone illuminate indicate da Dio, ma qualcuno scelto dal popolo stesso. Le parole repubblica e democrazia non possono essere divise, formano una garanzia al concetto di libertà. La Repubblica inoltre è come se fosse un'assicurazione furto e incendio su questa Costituzione che chiamiamo auto, non può essere modificata. Questa Repubblica Democratica è fondata sul lavoro. Tutti noi siamo chiamati in causa a fare la nostra parte di lavoro, facendo del nostro meglio, che sia un lavoro intellettuale, manuale e spirituale. Ovunque noi siamo, a casa, all'università, a scuola, al lavoro, in cella, ci sarà bisogno che qualcuno guidi quest'auto giusto? Ed ecco l'ultima parte dell'articolo. La sovranità appartiene al popolo, una sovranità però pur sempre limitata, dalla stessa Costituzione pensate. Noi tutti scegliamo chi deve rappresentarci, chi deve mettere in atto la nostra volontà, ma sempre nel rispetto delle altre macchine statali e di chi vi è a bordo. La macchina la mettiamo in moto con le nostre scelte e le nostre azioni giorno dopo giorno, ma ci dobbiamo ricordare che dovremo sempre, sempre rispettare un codice della strada. Ci sono innumerevoli altre macchine costituzionali e di loro articoli 1. La Tunisia, ad esempio, uno Stato libero, indipendente e sovrano. La Repubblica Araba d'Egitto, uno Stato indipendente e sovrano con un regime democratico. L'Albania, una Repubblica parlamentare. Ospite della prima puntata di Costituzione On Air con noi oggi è il professore Valerio Nida, in collegamento da Milano, costituzionalista e accademico, già presidente della Corte Costituzionale. Allora, buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno. Vorrei chiederle in innanzitutto che cos'è una Costituzione, ma soprattutto a cosa serve a chi si trova in carcere. La Costituzione è la legge fondamentale, cioè il documento legislativo che contiene però i principi fondamentali per l'andamento, l'assetto e il governo della società. Naturalmente quindi le Costituzioni, a differenza della maggior parte delle leggi, sono date a durare normalmente. Non è che si fanno ogni giorno, ogni mese. La nostra Costituzione, nell'ultimissimo articolo delle disposizioni finali, diceva che per tutto l'anno 1948, che era il primo anno di vigore, la Costituzione doveva essere rimanere esposto in tutti i comuni della Repubblica perché i cittadini potessero prendere conoscenza. I cittadini sono tutti, anche gli stranieri, quelli che vivono tra noi, che sono quindi in qualche modo membri di questa società, anche per coloro che sono in carcere, perché coloro che sono in carcere non sono mica persone diverse, persone non persone, sono persone anche loro, fanno parte della società, della collettività, perché l'essere in carcere non deve essere un fatto di esclusione. Infatti la Costituzione nostra stabilisce che la pena carceraria deve tendere a quella che si chiama la rieducazione, cioè la risocializzazione, il tornare membri a pieno titolo liberi nella società. Questa è la Costituzione e quindi contiene cose, principi che valgono veramente per tutti. Che cosa significa questa frase che la Repubblica è fondata sul lavoro? Fondata sul lavoro non vuol dire che la nostra Repubblica, l'idea di base della nostra Repubblica è che il lavoro è il valore supremo. È un valore, certamente, non è il valore supremo. Se dovessimo dire qual è il valore supremo è il rispetto della dignità di ogni persona. Fondata sul lavoro vuol dire che il lavoro è fondamentale, un elemento fondamentale per la vita della società. E lo capiamo andando a leggere l'articolo 4, che prima dice che tutti hanno diritto al lavoro, che la Repubblica deve fare in modo, deve promuovere le condizioni per rendere questo diritto al lavoro effettivo. Perché, naturalmente, non è facile. Possono esserci molte situazioni, conosciamo bene, in cui ci sono persone che non trovano il lavoro. Ma poi aggiunge che il lavoro è anche un dovere. Cosa dice? Che è dovere di ognuno svolgere un'attività che concorre, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, ma un'attività che concorre al progresso materiale o spirituale della società. Questo è il lavoro nella concezione costituzionale. Cioè, l'attività è il contributo che tutti sono chiamati a dare, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, per far camminare avanti, far progredire la società, materialmente o spiritualmente. Questo è il senso del fondata sul lavoro. L'articolo 1, nel primo comma, afferma che la sovranità appartiene al popolo. Qual è il vero senso di questa frase? Ecco, la parola sovranità è una parola antica e noi abbiamo in fondo ereditato da antichi sistemi in cui c'era il sovrano, l'imperatore, il re, il principe, e quindi non erano democrazie. Però abbiamo ereditato questa parola, abbiamo continuato a riferire questa parola, sovranità, però trasferendola dal capo, da quello che era il sovrano appunto, a un'entità collettiva. Si dice il popolo, il popolo siamo tutti. Quindi è più quasi una metafora dire che la sovranità appartiene al popolo. Il popolo è sovrano. Il popolo è sovrano su se stesso? La sovranità si esercita sulla collettività? E quindi forse dovremmo smettere di parlare di sovranità, perché sovranità vuol dire stare sopra e gli altri tutti sotto. Quindi anche il popolo, in che senso è sovrano? Sovrano su se stesso? Ma in che senso? Che la maggioranza che decide può decidere qualunque cosa? Non è che il popolo sovrano, votando o esprimendosi, possa davvero esercitare qualsiasi potere, limitare qualsiasi diritto degli altri. Non può neanche il popolo sovrano ledere i diritti delle minoranze. Quindi ecco perché la parola sovranità va considerata una parola, come dire, storica, ma che non esprime fino in fondo il senso del potere in una società democratica. Tutti gli individui, le persone esistenti, maggioranza o minoranza, hanno gli stessi diritti fondamentali che debbano essere rispettati da chiunque esercita il potere. Ecco perché poi la Costituzione aggiunge subito che la sovranità appartiene al popolo, ma che il popolo la esercita, dice, nelle forme e le procedure che si vogliono, ma è nei limiti della Costituzione. Aggiunge nei limiti. Quindi è per dire che proprio la sovranità della Repubblica è per definizione una sovranità limitata, quindi non è sovranità. E all'interno del concetto di popolo ci siamo tutti, quindi anche i detenuti. In che misura quella che definiamo sovranità, ma forse un termine, come ha detto lei, anche un po' anacronistico e che dovremmo sostituire, spetta a loro, quindi ai detenuti? Sono membri della collettività e quindi hanno tutti i diritti propri di tutti i membri della collettività e possono esercitare le facoltà, i diritti, anche i poteri qualche volta. Per esempio anche i detenuti votano. Quando uno ha perduto il diritto di voto, il diritto di voto è il cittadino italiano, non si intende. Perché purtroppo ancora oggi il diritto di voto da noi è limitato a cittadini italiani. Dico purtroppo perché forse possiamo pensare a un futuro diverso. Il diritto di voto lo esercitano anche i detenuti e così altri diritti. Il diritto alla libertà, certo, uno dice come sono detenuto, proprio sono privato della libertà, ma non del tutto. Non è che sei privato del tutto, c'è dei limiti che la pena temporaneamente comporta all'esercito della libertà, ma non sei ancora un uomo libero, una donna libera. Quindi la libertà e poi tanti altri diritti. Quindi i detenuti sono titolari dei diritti fondamentali, come gli altri, e quindi anche per loro vale la Costituzione e vale la democrazia. E ora mi rivolgo a tutti i nostri ascoltatori. Allora, cosa ne pensate? Come scrivereste voi il primo articolo della vostra Costituzione ideale? In fondo siamo tutti un po' filosofi di noi stessi. E allora, cogliete l'occasione e scriveteci all'indirizzo email liberidentro.eduradio.gmail.com Grazie a tutti.